In comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. La menzogna che diventa verità. Succede anche questo nel tempo caotico del web. Il web è una dimensione della nostra esistenza, una dimensione complessa che però va capita e va anche interpretata. Quando parliamo del legame tra menzogna e verità il rimando è all'espressione fake news. Fake news è l'espressione del momento e sembra davvero un'urgenza da approfondire ma non è esattamente così. Il tema delle false notizie, dei contenuti falsati, delle bufale, dei cosiddetti fattoidi è infatti un tema vecchio quanto l'uomo, vecchio quanto la comunicazione. Pensiamo a lo sbarco degli alieni che Orson Welles nei primi anni 30 ci raccontò attraverso una trasmissione giornalistica oppure pensiamo a casi come il mostro di Loch Ness oppure le sculture di Modigliani trovate nell'Arno. Quindi da sempre il tema delle false notizie ha caratterizzato la nostra vita e soprattutto la nostra vita nella percezione con i mezzi di comunicazione di massa. Ma in questo momento, in questo momento in cui il web, il digitale predominante, un digitale sempre più difficile da intercettare, il tema delle fake news sembra spopolare. Quindi è necessaria una nuova attenzione al discernimento, alla selezione. L'attenzione è così forte tanto che il Papa, Papa Francesco, ha dedicato il prossimo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si terrà il prossimo 13 maggio, il 13 maggio 2018, proprio al tema delle fake news. Il titolo del messaggio è La verità vi farà liberi, una citazione del Vangelo di Giovanni e il sottotitolo recita proprio così Notizie false e giornalismo di pace. La Chiesa, ma non soltanto la Chiesa, gli studiosi, la società, la politica, le istituzioni stanno ragionando sul tema delle fake news e lo stanno facendo attraverso due prospettive. Una prospettiva appunto di costruzione anche di paletti, di norme che possano in un certo senso attenuare questa deriva, ma nello stesso tempo anche attraverso un lavoro educativo. Bisogna imparare a capire cosa è vero e cosa è falso in un contesto, in un tempo complesso da intercettare, ma nello stesso tempo favorevole in quanto determinato a dare spazio all'uomo. L'uomo può selezionare, può discernere e quindi può capire anche che cosa è vero e che cosa non lo è.